Il 16 giugno 2012 sarò al Pride di Torino in due vesti. La prima è quella di cittadino, di cittadino normale di questa Repubblica Italiana che deve dire a questa Repubblica, deve dire a questo Paese che è un Paese normale, un Paese che accetta l'unione tra eterosessuali e omosessuali nello stesso modo. È un Paese normale, un Paese che accetta di allargare i diritti e di non restringerli. Un Paese normale è un Paese che accetta i matrimoni gay, i matrimoni omosessuali. Un Paese normale è un Paese che normalmente nella vita quotidiana ha attorno a sé le persone che si amano indipendentemente dall'orientamento sessuale. L'altra veste è la veste di amministratore pubblico. Il Pride ha chiesto a tanti amministratori di aderire ad un'iniziativa particolare. Ci sarà un carro, un carro sul quale si celebreranno molti matrimoni, matrimoni omosessuali e matrimoni che hanno lo scopo simbolicamente per ora, purtroppo per ora, di dire a questa Repubblica e soprattutto a quelli che possono allargare i diritti e non restringerli che in un Paese politicamente e civilmente normale i matrimoni tra persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale, si possono celebrare e si devono celebrare. E allora tanti amministratori hanno aderito a questa iniziativa e hanno aderito a celebrare i matrimoni, i matrimoni su quel carro, i matrimoni tra persone che si amano e io sarò uno di quelli. E allora lancio anche un appello facente parte del Partito Democratico, lancio un appello a un mio compagno, amico del Partito Democratico che è Fioroni. Fioroni deve capire che questi diritti sono diritti che allargano, queste scelte sono scelte che allargano e non che restringono. E allora Fioroni, se non è capace ad accettare questo messaggio, questo allargamento di diritti, forse dovrebbe tornare a pensare di aderire ad un altro partito, perché per me il Partito Democratico è un partito che allarga i diritti. Questi sono diritti che si devono allargare e io sono orgoglioso di far parte di questo partito, perché all'interno di questo partito porterò insieme a tanti altri questa battaglia. Buon Pride a tutti!